bentornati ragazzi sul nostro canale e oggi parleremo di un software software che vi verrà utile con il vostro laser la vostra cnc sicuramente ma magari anche solo con le vostre forbici di che cosa sto parlando un software fantastico che però vi dirò solo dopo la sigla sigla allora ragazzi il software in questione di oggi è slicer for fuse 360 cosa ci permette di fare questo software tra l'altro software di proprietà autodesk e quindi tranquillamente la casa che lo produce è valida non è stato molto sponsorizzato forse anche accantonato da parte di autodesk però noi ci teniamo a presentarvelo e a farvi capire come magari usarlo e implementarlo nei vostri lavori penso che qualcuno appunto me l'abbia già chiesto in vari commenti in vari video cosa succede vogliamo parlare di un stl quindi un modello 3d che può essere trasformato in modello appunto di xf o pdf per poi essere tagliato con legno cartoncino quello che volete anche carta appunto carta e forbici e poi diventare successivamente con quei materiali un modello 3d quindi formare appunto tagliuzzare slicer no tagliare questo file stl e portarlo ad avere tanti tanti pezzi che formano di nuovo questo modello e quindi poter utilizzare con laser cosa che se non esiste già qualcuno che l'ha fatto o comunque non potete stare a disegnarlo voi perché non avete capacità o tempo ecco diventa un po difficile portare un stl da appunto essere pronto per essere laserato al laser o anche alla cnc oppure come dicevo e mi ripeto anche con le forbici e la carta quindi questo software veramente siccome è valido non curato ripeto sono accantonato quindi magari ci sarà in qualche computer forse qualche lentezza qualche non sarà proprio immediato comunque a me succede così però non so magari è il mio computer che va male quindi come dico sempre la nostra filosofia è quella di portare contenuti che possono essere utili a voi maker questo va un po sempre a accontentare chi mi aveva chiesto come portare un stl un modello 3d sul legno comunque cercare di ricreare col legno ecco questo è il video adatto cosa fare per cominciare ad usare questo slicer for fusion 360 dobbiamo andare sul nostro motore di ricerca digitare appunto slicer for fusion 360 il primo link utile appunto sarà quello di autodesk cliccando lo andremo nella pagina appunto di autodesk che ci permetterà di scegliere la versione software del nostro computer quindi che sia windows o che sia max caricatelo zip e poi dopo installate il programma una volta installato vi presenterà quest'icona e questa semplice interfaccia da qui dovremo tranquillamente decidere di importare i nostri modelli io scelgo un moai per appunto stare in tema con le stl appunto che avevamo fatto in una recensione di una stampante la migna che vi consiglio di andare vedere anche solo per darvi un'idea di come gestiamo noi il discorso di recensioni selezionate il file facciamo open una volta importato il modello possiamo gestirlo col tasto destro ruotarlo aiutandoci anche qua con questa interfaccia qui in alto sulla destra è molto simile a quello che un po vediamo se modellate confuso 360 quindi poi dopo abbiamo la possibilità qui di in queste tab che si presentano una volta caricato il modello di andare a scegliere quello che sarà il nostro materiale è un già c'è già qualcosa di pre impostato e poi insomma andremo a vedere anche il perché delle volte magari abbiamo delle misure come a4 o altro però si potranno anche come avete visto qua inserire vari modelli di materiale che possano comunque corrispondere anche alla vostra area di stampa perché poi alla fine l'utilità può essere scegliere la vostra area di stampa o il vostro materiale quindi l'area del materiale per dire io uso solitamente e trovo del pioppo da 4 mm 80 x 60 nel creare con la matita schiacciando qua nel creare il mio laser 90 x 60 gli ho dato come vedete qua la possibilità di andare a modificare questa targhetta modificare l'altezza la larghezza gli ho dato un 795 per 595 un po di bordo e ovviamente specificando il la spessore quindi 44 mm poi dopo si possono anche decidere i margini eventuali da mantenere più l'offset appunto se avete già trovato un offset ma comunque magari lo state già utilizzando sull'idebone l'offset quindi insomma questo però intanto per dare un'area di lavoro in base al vostro materiale poi col tasto più ovviamente qui si può dare un nuovo materiale volendo potete sino modificare anche quello che è già esistente questo per quanto riguarda la appunto la preparazione di quello che sarà depositare i file che andremo creare con questo programma sì perché lui deciderà in base a quanto è grande il modello e quanti pezzi servono in base a quello che sarà l'area del vostro appunto materiale deciderà quanti file fare e quindi insomma se avete un'area grande e il pezzo è piccolo sicuramente ci sarà un solo file unico con cui distribuirà tutti i pezzi su quel file altrimenti se necessiterà appunto l'area di più fogli per dire il verrà distribuito in più fogli quindi dividerà al par per dire avete un foglio a 4 e dovrete fare 100 pezzi sicuramente dividerà il numero giusto per ogni foglio a 4 quindi avrete una modificazione dei pezzi per tutti i vari fogli per questo che vi dico di andare a scegliere bene anche la misura che potete tranquillamente appunto modificare qua faccio vedere per spiegare appunto questo programma cosa potete fare così dopo potete cominciare a interagire anche voi su questo programma e realizzare i vari modelli partendo da un stl appunto sia in legno che attenzione anche con il car con la carta perché c'è una bellissima modalità anche per la carta ma andiamo con ordine vi faccio vedere appunto qui in construction technique quali che cosa si possono selezionare si possono selezionare steak slices interlocked slices curve radia slices fold panel e 3d slice allora ve le spiego man mano che ve le faccio vedere e poi dopo andiamo a vedere che magari ne prendo uno a caso per spiegarvi poi gli altri tab che si apriranno quindi con steak slice vedete che poi queste sono le altre tab che vi dicevo qui ci permette di fare e vedete anche con base anche quanto gli ho detto di grandezza di materiale mi ha diviso appunto in 11 pannelli e 38 parti qui c'è la sovrapposizione dei pezzi uno sopra l'altro che potete decidere di incollare o tramite questa appunto creazione di dowel incastrare anche questi quindi cioè selezionando il dowel verrà creato proprio il piccolo listellino di di legno se utilizzate il legno e potrete tranquillamente usare quelli per fare l'incastro senza dover magari incollarli uno sopra l'altro però secondo me la incollarlo forse è un po più difficile perché devi star lì però vi risulta un po più facile perché sino col dowel avrete da dedicare un po più di tempo per le tolleranze per insomma per gli incastri di questi piccoli dowel anche perché se poi l'immagine non è grandissima adesso questo dowel diventa forse è bello bello difficoltoso da da maneggiare inserire che non si rompa insomma vabbè però se magari l'immagine grande volete fare per dire ogni pezzo che stia su un pannello da appunto da 80 per 60 allora il dowel diventa di conseguenza detto questo vi faccio vedere appunto anche l'interlock slice eccolo qua invece questo qui è una versione che ti fa ti permette di incastrare quindi in teoria una volta incastrato tutto starà in piedi da solo vari pezzi appunto e qui a differenza di dell'altro modello dell'altra modalità possiamo decidere quanti pezzi creare in modalità asse appunto primo asse secondo asse quindi se io vado a modificare per dire questo che è da 10 e lo riduco vedete che l'asse che è il secondo asse mi ridurrà l'incastri invece se vado ad aumentare giustamente mi aumentano e mi creano ancora di più un'immagine perfetta quindi insomma in base al modello poi dopo dovrete anche voi gestire questa modalità guardiamo il curve il curve abbiamo la possibilità di appunto avere già una stessa presentazione di sezioni incastrate ma con questa già con questa diciamo rotazione che ci permette di personalizzare ancora di più quello che è il nostro modello anche qui possiamo decidere quanti farne curvare e quanti assi invece lasciarli dritti quindi se vogliamo dire qua gli assi che saranno i pezzi dritti e pezzi curvati andiamo a decidere anche qua quanti il radius lies invece parte da un punto centrale anche qua e fa la forma diciamo che forse questo non è il modello adatto per questo però insomma secondo me se state facendo magari se state ricreando altri modelli che possono essere vasi o sfere o sfere da incasso potrebbe essere già il radial potrebbe essere già più una scelta giusta anche qua modificando il tutto poi abbiamo il fold del panel invece che ci porta lontano da quello che è un po' stato la modifica del file fino adesso qua ci crea proprio la possibilità di andare a creare la calcola carta o un modello appunto da incollare se vedete magari se andate a vedere il video che ho fatto per halloween dove appunto scaricavo da un sito tutto già il file pronto da tagliare e tratteggiare con la funzione tratteggio di di lightburn qui lo creiamo noi la c'erano già file fatti qui possiamo dire appunto di voglio ricreare questo moai in cartoncino bene allora mi faccio il file per tagliarlo quindi questo viene buono non solo con l'asr ma anche con le forci perché alla fine si riesce a fare stampando il pdf anche qui ritagliando e poi piegando nel tratteggio si può ricreare qua abbiamo la possibilità di decidere un po' come personalizzare il realizzo della di questo modello decidendo anche qua quanti probabilmente incastri cioè incastri comunque sezioni fare vedete che poi dopo si possono decidere di modificare avere anche sezioni diverse magari uno volesse appunto decidere di non fare tutto in una stessa maniera il file però anche questo sono tutti da da vedere la cosa interessante che si può decidere come avere l'incastro cioè incastro quello che poi andrà a unirsi con gli altri vi faccio vedere meglio praticamente qui con diamante si si creano queste specie di diamanti che saranno questi poi dopo da poi applicare a che ci faranno in modo di unire il pezzo che stiamo facendo interessante secondo me ve lo faccio vedere al volo il puzzle che non vi crea un puzzle in sé però vi permette appunto di vedere che appunto ci sono c'è vi crea l'incastre quindi in teoria dovrebbe essere fatto tutto in modo che si incastrino uno con l'altro e sia un po più facile la gestione appunto del formare questa immagine l'altra interessante funzione del 3d slice che ci lega non solo con laser ma anche con la stampa 3d ovvero io posso si partire da un file stl già diciamo predestinato alla stampa 3d ma posso decidere di fare più pezzi quindi andarlo ad affettare come fa solitamente il nostro slice comune per la stampa 3d quindi avendo tutti i vari pezzi da andare a unire quindi avremo vari pezzi il file creato qui saranno vari pezzettini da stampare varie stl poi da andare a unire su uno sopra l'altro ovviamente incollandolo la possibilità che abbiamo qui con il punto la direzione adesso vi faccio vedere appunto selezionando questo la tab possiamo decidere come orientare in base appunto come voglio vedere che siano i pezzettini se io voglio adesso sono qua sono da dietro verso l'avanti vado a ruotare per dire lo metto a 125 gradi in questo caso partendo da qua vedrete appunto che vengono messi di traverso seguendo appunto la rotazione che gli ho dato insomma anche qui si può decidere di personalizzare ulteriormente quello che è il nostro pezzo poi importante è il diciamo il video che vi fa vedere come assemblare le parti parti che poi verranno tutte diciamo nominate con numeri che da andare a poter formare questo pezzo uno sopra l'altro senza senza perdersi perché comunque è facile se non avete riferimenti è facile avere tanti pezzi lì e non sapere come metterli quindi occhio a quello che decidete di fare e magari prima partite con un pezzo piccolo e vedete se vi trovate con l'indicazione comunque qua tenetela sempre buono o fate un video di riferimento di questa questa assembly steps che così vi da vi da una mano potete decidere già di vedere come verrà fatto se in cartoncino o in legno o in plastica ma questa qui diciamo che è una versione un rendering ma che poi non vi cambierà tanto vederlo in una in un materiale o l'altro fatto questo deciso tutto pronti via andate in get plans scusate e qui avrete quello che sarà l'anteprima del dei file che poi vi troverete sul computer facendo appunto l'esportazione su my computer export to my computer decidendo il file tape quindi dxf se avete o pdf se avete un laser spero ragazzi che a grandi linee di aver presentato appunto questo programma di avervi dato spunto per andare a cominciare a creare qualcosa di originale perché effettivamente c'è veramente qualcosa di da fare ci vedete che anche orientando lo slide direction si va a adulto ulteriormente a creare modelli diversi e d'impatto quindi come dicevo spero di aver presentato bene spero di avervi dato come al solito uno spunto e del ridato una nuova idea magari per il vostro lavoro per il vostro hobby insomma per far bella figura con i vostri amici e regalare magari un bello oggettino particolare quindi vi ricordo di iscrivervi al canale mettere un bel mi piace appunto a questo video se vi ho dato spunto appunto spunto e niente ragazzi ci vediamo prossimo video mi raccomando state allegri 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 ciao 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 ciao